L'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione di Arezzo e Fiere e Congressi è arrivato ad uno snodo importante. È stato definito il piano dei pagamenti dei debiti residui relativi all'ampliamento dell'immobile fieristico e quindi sarà proposto all'Assemblea dei Soci il prossimo 4 febbraio. Con spirito di coesione e di collaborazione, contragamente a quanto era emerso recentemente in alcuni articoli giornalistici, gli amministratori hanno preso atto delle sottoscrizioni in corso relative alla proposta di aumento del capitale del 18 settembre 2012 e sulla base delle cifre disponibili hanno potuto proporre un piano di pagamenti che consentirà ad Arezzo e Fiere e Congressi di risolvere entro pochi mesi ogni situazione debitoria relativa all'attività immobiliare. Nel frattempo prosegue a piano ritmo l'attività operativa con l'apertura nel prossimo fine settimana delle manifestazioni Abitar e il Salone degli Sposi e con i nuovi eventi Superfood e la Città dei Cittini, previsti per il 15 e 16 febbraio. L'impegno del Consiglio era quello di creare le condizioni affinché l'attività fieristica possa continuare il suo percorso di sviluppo e crescita in collaborazione con le istituzioni e le categorie economiche affinché sempre più Arezzo e Fiere e Congressi possa costituire il volano per la promozione dell'economia retina in Italia e nel mondo. Dunque questo clima collaborativo che si è registrato durante il CDA dovrebbe a presto partorire anche i nomi, in particolare del nuovo presidente e forse anche del direttore.